il signor ciao benvenuti direi che oggi la serata è riuscita alla grande la serata è riuscita alla perfezione cos'è che è l'alchimia di le folite epical riassunti in poche parole l'alchimia delle folie è comunque proprio il divertimento che noi diamo il pubblico tramite l'animazione e la voglia di libertà grazie a tutti cercheremo sempre di dare il meglio per il pubblico per tutte le serate grazie a tutti 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 grazie a tutti